Passo indietro nell'organizzazione della manifestazione delle Sardine a Firenze di Bernard Dica, 21 anni, ex millennial della direzione PD, quando alla guida dei DEM c'era Matteo Renzi. Il giovane l'aveva lanciata in veste privata la settimana scorsa, ma ieri con un post su Facebook ha annunciato che si fa da parte per evitare strumentalizzazioni, come riportato oggi da alcuni quotidiani. Insieme ad alcuni giovani abbiamo lanciato l'idea di riunirci a Firenze, ognuno con la propria storia, senza bandiere o simboli, ha scritto Dica sulla pagina social di La Toscana Non Si Lega, senza palchi per personaggi in cerca di visibilità. Una piazza in cui gli unici protagonisti siano i valori della nostra Costituzione e non l'odio e la violenza. C'è chi attribuisce, secondo i fini e marchi, a iniziative spontanee e plurali. E allora, con lo stesso spirito civico, faccio un passo indietro, felice che ci siano dei giovanissimi ragazzi che stanno portando avanti questa bella iniziativa civica. Dico grazie a ognuno di voi per il vostro entusiasmo, abbiamo riscoperto insieme la bellezza di far parte di una comunità, e viva la Toscana, che non si lega. La manifestazione è in programma il 30 novembre, nel giorno in cui è prevista a Firenze una cena con Matteo Salvini per dare avvio alla campagna della Lega per le regionali.